hey amici youtubers ciao benvenuti nel mio canale tutto bene perfetto sono contento appena ieri ho fatto lo speciale 600 views e oggi mi ritrovo a 634 34 views in un giorno sono veramente contento finora non ho fatto sfide adesso vi lancio una sfida se guardate il mio video con l'orsetto voi sapete che tra una settimana io sono in ospedale perché devo subire un intervento bene la sfida che vi lancio è questa ce la faremo da oggi fino alla sera del 13 ad arrivare a 700 views io dico di sì e allora sotto ragazzi mi raccomando condividete il mio canale per aumentare di usi nel frattempo visionate tutti i miei video lasciate like iscrivetevi e condividetelo oggi con roseletto e lo ripeto vi ringrazio amici e amiche youtubers mi raccomando raccogliete questa sfida e vi ricordo che a mille visualizzazioni 100 iscritti farò uno speciale sulle mie postazioni da youtuber detto questo vi ringrazio ancora vi saluto e vi dico ciao ragazzi grazie di tutto bella youtubers